ok per mia felicità questa parte qua riesco a non dover rifare tutto il livello di prima perché a quanto pare mi riporta subito a Spectre Wars qua come cazzo si chiama la battaglia contro il robottone non ho preso le vite ah sono proprio sbadato vedete se si è già impostato su panoramico dovrebbe si 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 andiamo a fuggire vado a prendere almeno 5 vite anzi facciamo 7 dai intanto c'ho 3.000 monete andiamo un pochino le monete le monete si è ciao ah sono partito con 3 vite vabbè arriviamo comunque a 7 lo stesso boh apposta andiamo 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 adesso 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 cacchio non andavo a riuscire venendo a uscire con cerchio preoccupare la PlayStation 3 perché ha cambiato tutta sta cosa che una volta si usciva con triangolo e si entrava con X ora si esce con cerchio e si entra con X vabbè andiamo contro Spectre continuo il bottone qua il Gundam il Gundam di Spectre ok ecco qua il Gundam di Spectre ok giusto per ricapitolare Spectre sta lanciando una mano gigantesca del suo satellite per ehm ahia ma vuoi che io cerco di dire da che pagano i miei proietti ci blocca il programma di già ok facciamo male con il programma eh un giorno capirò che cosa lo fa bloccare un giorno lontano perché sarà un anno che non vi ha sti progetti il programma di casa oh le dita merda ok spaccate le dita no ma ci metto un troppo poco tempo ad aver messo lì faccio il tempo cioè appena li vedo già cadono sono già senza vita porca puttana no dimmi che mi arriva qualcosa di bellino come un po' di biscotti uff si lo so già quel cosi è ovvio biscotti ah uno è un coro però mi basta è come tutta la vita grazie oh no 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 ma edizione ma che palle se mi dà tu sei biscotti ho vado per tutta la vita su sti cosi ci vuole un una tempistica scusa per sta sta roba uno poi altro ah veramente ci vuole un sacco di tempistica per fare ste cose vedete ecco ho pure sbalzo di azione vabbè nella claustrofobia in più sono sti bastardi che mi colpiscono mentre cerco di beccare il coso secondo me non mi danno biscotti se mi adesso neanche fuori di fermi impossibile talmente sta roba eh ok ce l'ho fatta biscotti biscotti uuh tutti fatti i biscotti sto bastando adesso muore se la telecamera non si muovesse magari e non mi da neanche un biscotto sono a vita incompleta ehm ma meno male che l'ho colpito dai sto guindano il cazzo cosa ehi ah un altro laser da evitare oh ho rischiato la vita dai svitiamo sto bastardo dobbò mmm ma che palle ma possibile e neanche un biscotto uuh eccoli schifosi un po' di biscottini uuh eccolo grazie biscotti grazie di esistere a un biscottino mio ahhh ah no schifosi non so di che parla non so di cosa sto dicendo solamente che devi trasti cose non si capisce da che parte vanno ok ce la sto facendo no c'è la tizia di che sto urlando per qualche motivo iiii si vabbè ok due solo suppongo che se vado sul fuoco muoio e poi è sottointeso e cosa devo fare? non è che vado mai in mezzo e devo saltare colpito con la spada? vediamo eh lo sapevo io vabbè evidentemente dov'ho fare qualcosa con noi in questo momento in questo momento vabbè come il cazzo si fa? trasformazione non è così devo sparare contro si si era così che devo fare certo abisarmi che devo fare così sarebbe stato utile però quello me l'ho intuito da assolutamente c'è un soddisfatto che l'ho intuito solo per essere rimasto senza vita senza tipo non ci possa credere ce l'avevo messa tutta ah abbiamo vinto nella ultima parte questo cosa succede ora? ho solo una vita? non posso morire adesso ok na dove si va? dove si va? finita? che è successo? ehi cosa? cioè non si è caduto fino a quel momento e adesso si cade? è meno male che ho 7 vite con i gatti devo staccare le orecchie ci voleva così poco ecco ecco spectra con un bottone oltretutto proprio tipo l'ho costruita pensando ecco quello è meglio colpire qua finita adesso c'è la porta che ci rigola come i castelli proprio eh mi fa piacere adesso un triatore ha detto vabbè ha detto satoro però io ho capito ma uh biscotti me ne basta solo uno grazie tanto ormai la vita va persa vediamo questo coso anche se non serve e vai seguiamo spectra vediamo un po' dove ci porta questo coso comunque sta per finire il gioco lo sconto finale ci provo niente vunnan più quello credo primato minchia cosa ma il laggio il laggio il laggio il laggio il laggio niente di che l'ha fatto anche la sigla rosa no un boss comunque l'ha fatto già mi ha fatto mi ha fatto i pochi ma si faremo lo binano l'acqua un po' che è su Ce l'abbiamo fatta, Satoru! Sì! Aspetta un attimo. Sai, ho la strana sensazione che abbiamo dimenticato qualcosa. Ma che cosa? Oh, Satoru! Non c'è proprio niente da ridere! Vuole, ragazzi, non litigate. Credo che vi siate dimenticati della mano karate. La terra sarà divisa in due. Oh no! Ecco cos'era! Niente paura! Solo io posso fermarla, perché io sono il suo creatore. Usate la navetta spaziale sul ponte inferiore per tornare sulla terra. Ora presto sbrigatevi. Ok! Va bene! Contiamo su di te! Ci vediamo più tardi, signor Afro! Confidiamo in te! Sì, ci rivedremo molto presto. Lasciate fare a me! Ora addio. Per sempre. Una volta attivata la mano karate non può essere fermata. A meno che io non attivi il comando universale di autodistruzione da questa stazione. Autodistruzione! Attivate la modalità autodistruzione! Computer, i ragazzi sono partiti? La vita l'armata! Ok, modalità di autodistruzione B. Da anni non mi sentivo così felice. Sadone, Saiyaka. Incontrarvi ha significato davvero molto per me. Addio. Cosa? Numero 1182. Hai deciso di restare con me. Banzo di me. E adesso si, balla! Satoru! La stazione spaziale! No! Signor Afro! Ehi! Ce l'abbiamo fatta! Aki, presto saremo a casa. Ciao, ciao! Sono io, Rosa! R-A-S-A Ho salvato Svettere e il resto dell'equipaggio E' solo colpa vostra se non siete riusciti a prendermi! Non sareste in grado di catturare nemmeno una lumaca! Un'altra volta! Svettere è riuscito di nuovo a fuggire! Vi dispiace inseguirlo ancora! Nel negozio degli hobby c'è un gioco nuovo davvero fantastico! Ti ha pagato Kojima per dirlo? Si chiama Mesal Gear Solid. Sembra davvero divertente! Va bene, andiamo a vedere il gioco fantastico, yeah yeah yeah! Comunque sì, adesso si dovrebbero prendere tutte quante le scimmie, ma quello che noi non faremo! Perché avevano finito al 50% il gioco! E questo gioco qua da che non ce lo danno, vabbè! Andiamo a Mesa al Gear Solid. Tutti ne parlano a poi giocarci, yeah! Ho giocato PlayStation 2, solo per... Probabilmente è tipo Scimmia Station 2, no vabbè, il gioco... Un gioco segreto davvero famoso! O il segreto è famoso, deciditi! Ok, quindi non si può comprare nulla, comunque abbiamo in gioco alla Tekken. E... Andiamo qua! Ora vediamo un po', eh! C'è un modo per vedere le scimmie che ci mancano? Vabbè, no, comunque non potremmo vedere le scimmie che ci mancano, perché in teoria in questo livello qua... C'è la scimmia di Ratchet... Che la dobbiamo sbloccare praticamente... Beh, mettendo una password. Che però io mi ricordo fosse l'Hatch, ma a quanto pare non è quella. Quindi... Non ci interessa... Quindi... Qui a Firefox alla prossima, ciao!